Ciao a tutti ragazzi, sono Peter Flame e questo è un video di Minecraft. Questo è il mio secondo video di Minecraft e fa parte della serie Road to Minecraft. Infatti ci saranno altri due video, oltre a questo e quello che ho fatto prima, dove vi farò vedere la mia casa, il mio mondo e l'ambiente circostante della mia villa, la diga, l'acqua e tutte queste cazzate varie. Allora adesso partire al gameplay. Allora, ci siamo lasciati nel primo video dove qui c'è un cartello scritto vorreste vedere lavoro in corso, dove non piace vedere niente. e l'ho tolto proprio perché qui, diciamo, ho completato la mia casa, ecco, l'ho praticamente quasi finita, solo che per questioni di tempo devo fare più di un video perché il gioco Minecraft dopo 6-7 minuti mi crescia automaticamente, non so per quale strano motivo. Questo qui è il divano che ha la caratteristica di avere due entrate, come quella che si trova al piano terra. Un'entrata qui e possiamo pre-gustarci questo bellissimo panorama, con questa mucca, anche se questo panorama non è dei migliori proprio perché, diciamo, devo ancora chiamare il giardiniere per far disboscare questa zona con tutti questi aberi, questa boscaglia. No vabbè, scherzo, naturalmente. Non chiamerò nessun giardiniere, io sono il giardiniere. Nel prossimo video, così, penso che avrò disboscato quella zona. Questa è la seconda entrata, vabbè, dove ci sta il televisore, in HD con, diciamo, che si trova sopra un piedistallo d'oro. Questo qui è il bathroom, cioè il bagno, con adibito, sì, adibito, ciao. Con la solita, vabbè, doccia, il solito water, c'è adesso, va bene. Qui c'è la libreria e il jukebox, c'è un lettore CD. La libreria perché, come al solito, uno quando va in bagno deve leggere e questa è la regola della mia casa. Se uno va in bagno e non legge, se ne va dalla mia casa. Allora, qui, vabbè, ci sono un po' di quadri e mi raccomando, un consiglio che vi do, di tanto in tanto, nella vostra casa, per abbellirla, mettete qualche jukebox, oppure qualche quadro, qualche fiacco, qualche libreria, per qualsiasi, diciamo, la casa sembra abbastanza spoglia e brutta. Qui, aspettate, mi stava laggando un pochetto, va bene. Allora, qui c'è una vetrata dove, diciamo, così si fa vedere, diciamo, la mia piscina, dove però ci pasquano queste bastarde pecore qui. Che non so perché, però dopo le andrò a punire amaramente. E vabbè, qui c'è il trampolino e dopo il video farò un bel tuffo per infrescarmi dalla torrida giornata, molto calda. In questo video farò vedere solo un piano, penso, e poi andremo nel primo piano dove parlerò un pochetto, non del gameplay di Minecraft, ma bensì delle novità sul canale. Questa è la camera da letto bedroom, che però non è la mia, ma è quella degli ospiti, cioè riserva degli ospiti, dove c'è anche un televisore, cioè gli tratto abbastanza bene con i lettori cd e tutto. Qui aspettate, aspettate, scusate un attimo. Ok, vai, mi stava laggando tantissimo e non so per quale strano motivo. Dio, va bene. E questa è la sala più bella, cioè la sala delle meditazioni. Eccola qui, meditation room. Sentite il karma, il matma, il latma che entra nel vostro corpo? Io lo sento. Allora, è molto bella, è molto carina questa stanza, anche se è un po' spoglia. Infatti al centro ho l'intenzione di metterci una bella piscina, tutta riscaldata, surriscaldata e tutte altre cazzate, però per problemi di spazio non entra. Cioè non è che non entra, volendo c'entra la piscina, è solo che poi è tutto, diciamo così, disordinato, tutto asimmetrico, e quindi per questione di ordine ho preferito non metterla. Adesso vi do un consiglio. Questa qui è l'altra scala, cioè la scala che dal piano terra porta al primo piano. Se vi posso dare un consiglio, voi dovete cercare di mettere sempre, ad esempio in questo caso, due porte, una qui e una qui, oppure due scale per far salire, diciamo così, le persone da un piano all'altro. Sempre due, perché diciamo non avete la possibilità, non è che dovete pagare una scala per farla. E quindi è gratis, mettetelo proprio per questione di comunità, e per non fare sempre lo stesso giro, che è un po' noioso, palloso, ecco. Qui, allora, un altro consiglio vi do è di mettere qualche vetrata per far entrare la luce e per non mettere sempre queste torce qui da cavernicoli, che sono abbastanza brutte e primitive, ecco. Qui vi starei chiedendo perché c'è questo buco? Ebbene sì, ci sta una bellissima scala, eccola, alla James Bond, che porta al piano terra. E nella casa ci saranno altre come questa, e cominciamo moltissime altre che vi farò vedere nei prossimi video. Guardate se esca a salire, eh? Finalmente. Questa qui è la Dining Room, Dining Room, come potete ben vedere da questa scritta, bella bella. E qui, vabbè, ci sta un cammino molto grande. E se avete visto il mio primo video, saprete come si fa ad avere il fuoco infinito. Basta che vantate all'inferno, prendete il Netherrock, Netherrock, chiamatelo come vi pare, e dopo aver preso questo Netherrock dovete metterci il fuoco, e da qui si avrà il fuoco infinito. Qui ci sta una bella tavola, qui per giocare a carte, con le serie, e niente. Queste cazzatine varie. Adesso, diciamo, il video è finito. Per questioni di tempo, finirò qui il video, nonostante io abbia già finito il secondo e il terzo piano. Però, vabbè, dai. Per questioni di tempo sono costretto a tagliarlo. Adesso metterò un po' in pausa, e vi diragnerò con le mie storie, con le mie novità sul canale. Vi prego proprio di ascoltarmi, tanto ci metterò 30 secondi. Allora, mi scuso per non aver pubblicato questo video una settimana fa, due settimane fa. Anche se, diciamo, ho avuto un bene di tempo, e poi, ragazzi, divertitevi, cioè, state, non state incolati al PC, come fanno molte persone. Quindi, di conseguenza, non lo so, io proverò a mettere il video più frequentemente, e specialmente vi promettiamo, io e Luca, che d'inverno ne metteremo proprio uno ogni 3-4 giorni, massimo 4, proprio. A 100 iscritti abbiamo l'intenzione di comprare l'HDPWare, oppure la Vermedia Crystal, che è un altro, diciamo così, recorder in HD, anche se dobbiamo ancora decidere quale e quando, soprattutto. Speriamo a 100 iscritti. Fra un po' mi arriva, diciamo, il computer, e quindi aspettate moltissimi miei gameplay di Black Ops e di Minecraft. Avevo un progetto, un doppio commentary con un altro utente, Mattinghead, potete trovare il suo canale nella mia subbox, su box, va bene? Chiamatela come vi pare, ecco. Ecco tutto. Però l'abbiamo fatto proprio per problemi tecnici, non riusciamo a montarlo, quindi speriamo di riuscirci prima che io parta. E niente, il video è finito, scriveteli numerosi e aiutaci a crescere. Ci vediamo!